che si creasse, cioè a cosa ha corrisposto la religione dell'euro, perché è diventata una religione, molto di un fatto tecnico. Allora, qui io cercherò di fare dei discorsi per capire come possiamo arrivati qui, cioè ad avere, aver trasformato una moneta in Dio, nell'avere stabilito che il dibattito pubblico è inibito, neutralizzato, che uno non può essere nominato un signore, peraltro molto dell'establishment, ministro dell'economia, per chi ha delle idee, incidendo molto sull'indirizzo politico, economico, mi pare, non ponendo questioni di altro tipo, eccetera, non devo dire altro, no? Però poi dico troppo. Ecco, i vincoli, certo ci sono vincoli, poi gli statunitensi hanno vincoli, ovvio, i russi, i cinesi, il problema è se ce n'hai uno solo, è totalmente esterno ed è un Moloch, un assoluto, indiscutibile. Beh, allora lì al naso c'è un problema, abbiamo un problema, non stiamo tanto bene, abbiamo un problema identitario. Anche perché un vincolo del genere, un vincolo del genere, fanno pagare un prezzo materiale, economico, è già stato richiamato, ma io aggiungo un prezzo, un prezzo politico-spirituale. Una volta avrei detto politico-culturale, oggi apposta lo dico, spirituale, perché diventa una questione antropologica poi alla fine. Perché io mi chiedo, tutti i giorni mi alzo e mi dico, com'è possibile che siamo arrivati qui, a questo nulla di politica, non c'è politica oggi, tutti parlano di politica, soprattutto i talk show, i giornali, fingono di parlare. Montano una finta politica identitaria, caricaturale, che non ha niente a che fare con le cose che contano, per illudere che ci sia una politica e che valga la pena alimentarla, impegnarsi, festeggiare, come è successo di recente anche in Francia. Non c'è politica, in Italia, meno ancora che in Francia probabilmente. Ma perché noi abbiamo già vissuto le cose loro, quindi abbiamo già sperimentato, stiamo sperimentando fino in fondo gli effetti di quello che ora accadrà in Francia, cioè di una bella neutralizzazione tecnica, tecnocratica. Per cui a me viene da dire che quello che peraltro anche l'IMES ha scritto anni fa, ci fu un numero sul vincolo interno, cioè qui si poneva realisticamente il tema di avere anche un vincolo interno, per meno anche. Mi pare, forse Paolo Peruffa l'ha scritto un vincolo interno per il vincolo esterno, cosa poi non facile perché se uno fa un vincolo interno totalmente funzionale al vincolo esterno, a naso è poco lo vincolo interno. Diciamo che prendiamo il buono, cosa se ne potrebbe trarre? Provare a fare un patto con noi stessi, a ricostruire un qualche noi, che è una cosa difficile, una qualche progettorietà politica, i giuristi teorici del diritto costituzionale direbbero un indirizzo politico costituzionale, sapendo che dei vincoli ci sono, dei vincoli esterni, i due citati prima da Canacciolo, sono quelli prevalenti, non è che spariscono e comunque forse eventualmente si può provare a contribuire a trasformarli, ma insomma non è che si spariscono a nostro piacimento, però forse noi, la nostra classe dirigente in generale è un sentimento diffuso, popolare, possiamo provare ad atteggiarci in un modo diverso, innanzitutto a vederlo, a riconoscerlo, a metterlo al centro del dibattito, la politica non parla di questo ovviamente, e a ragionare su come si può fare per starci dentro in un modo diverso, cioè per non pagare più prezzi così alti, smetterla di pagare prezzi così alti, l'Italia sta pagando da troppo tempo un prezzo non tollerabile. Wolfgang Streik, autore di un libro splendido, Geck auf der Zeit, Tempo comprato, tradotto per alleggerirlo, tempo guadagnato, perché poi che fosse veramente guadagnato non lo so, da Feltrieri, comunque operazione editoriale meritoria, mi ha invitato a Napoli all'Istituto di studi filosofici, siamo stati insieme due o tre giorni, a un certo punto mi ha proprio guardato e mi ha detto ma io non capisco perché voi siete così autolesionisti, non è stato facile rispondere, perché ci sono delle ragioni storiche, appunto, complicate, cioè appunto qual è la genealogia del vincolo esterno assoluto italiano. Comunque detto da un tedesco, è abbastanza buffo. Sì, oggi sì, però lui lo diceva anni fa e quando tutto sommato, perché lui diceva giustamente, è chiaro che noi ci stiamo comportando male, perché lui diceva partiva da un punto vero, cioè siete gli unici che avete fatto avanzi primari negli ultimi vent'anni, no? O comunque non nessuno l'ha fatto come voi, i salarii vostri sono quelli che sono andati più giù, cioè mi è chiarissimo, i dati sono lampanti, lo sanno la gran parte dei tedeschi e la giovane amica, è che voi avete pagato un prezzo molto alto all'euro, all'eurozona e mi chiedo perché a un certo punto non vi siate ribellati, cioè com'è che siete così? Dopodiché uno può dire i tedeschi oggi, è vero, sono d'accordo, stanno sperimentando una forma di autoresionismo pari forse a quella italiana, per certi aspetti, perché non è facile andare in giro per il mondo con tutti che ti ritornano dietro, perché tutti sanno quello che è accaduto al gasdotto e chi te l'ha fatto saltare, no? Bene che ci vuole tanto per capirlo e quindi non è facile, è proprio imbarazzante, capite che è imbarazzante, e infatti io mi rimango basito perché mi sembra una condizione ma vorrei essere gentile avletica, c'è che non riesce, si fa delle domande su di sé, forse, manco se ne fa appieno, ribadisce una cosa, la nostra ragione di esistere è l'esistenza di Israele, che è una cosa surreale da tanti punti di vista, no? molto rivelativa, molto psicoanalitica e però diceva beh sì ma tutto il resto, intanto anche rispetto a Gaza forse dovresti vedere la realtà, ma in ogni caso tutto il resto che ci dici? Che sei? E malbettano, Scholz ha provato a dire all'inizio sì ok abbiamo capito che la situazione è cambiata, però insomma con i cinesi fateci fare ancora un po' d'affari, però una robetta, una robetta questo governo che è tutto delegittimato perché ha perso consenso almeno secondo le elezioni europee e che ci ha detto Verdi e Erlabiliberali che sono esiziali perché chiaramente sono tutti pro vincolo atlantista e altri vincoli pseudo ecologici e sono una viattura, ecco mi verrebbe da dire hanno fatto la grande coalizione per tanti anni forse la dovevano, oggi l'avrebbero forse avuto bisogno più seriamente, perché almeno con i cristiani sociali un ragionamento un po' più di sostanza lo possono fare, comunque sono problemi dei tedeschi. Noi abbiamo una doppia crisi, una è quella esterna che viene da fuori ed è una crisi globalista diciamo così, cioè è la crisi dell'occidente, della globalizzazione che abbiamo venduto come universalismo o anche cosmopolitismo, è un problema per i cari i nostri amici giuristi, filosofi, filosofi del diritto, filosofi morali, filosofi politici, è un enorme problema degli intellettuali, l'hanno creduto, non posso non dico abbiamo perché io francamente ho sempre avuto dei dubbi, perché avevo fatto quelle tre quattro letture fondamentali che non avevo utilizzato diciamo, e poi quando sentivo dire Giuliano Amato che l'Unione Europea non si capiva che era, ma proprio per questo era bella ed era una grande cosa per il diritto pubblico, io dico ma qui c'è un problema perché se tu insedi il diritto pubblico comparato devi sapere chiamare le cose, se non le sai chiamare c'è un problema, comunque non mi tornavano, ma tutti gli altri, tutti dietro all'idea dell'unificazione dell'umanità, come se la globalizzazione basata sull'impero americano potesse essere l'unificazione dell'umanità, o sul finanziacapitalismo come lo chiamava Luciano Gallino, si è onorato un suo nome, dimenticato, letto e rimosso, perché si può fare l'elenco eh, di dieci libri fondamentali che spiegavano bene tutto, dieci, quindici, vent'anni fa, ma si è fatto finta che non ci fossero, questa è la verità quindi prima crisi in cui culturalmente il ruolo decisivo l'ha avuto il progressismo o lo pseudoprogressismo perché dietro la mistificazione dell'universale è andata la cultura pseudoprogressista l'idea che la globalizzazione in fondo fosse una gran bella cosa perché superava i confini creava un grande catino in cui c'era solo una grande polverizzazione interna, tanti polviscoli, un polviscolo che si muoveva tutto eccitato e che così ci sarebbe stato un bell'ordine irenico mondiale, era una magianata cosmica ma sta era iscritta in una certa ideologia che mi appartiene, da cui provengo, diciamo della sinistra comunista, socialista eccetera, soprattutto da una certa fase in poi perché prima togliati, nenni, basso, anche perché il mondo era diviso in due, erano più avvertiti sul ruolo del livello nazionale, il rapporto con quello internazionale, insomma la lezione anche di gramsci. Però a un certo punto, come dire, il globalismo era una carrozza a cui bisognava agganciarsi, per forza, con un po' di critiche dicendo no ma noi siamo alter globalisti che poi, se capito, non ci si riusciva a rovesciarla in un altro verso, evidentemente le forze trainanti erano altre. Vabbè questa è una crisi che hanno tutti, l'impatto della globalizzazione, della sua crisi attuale, della deglobalizzazione almeno parziale, del fatto che ci raccontano che noi dobbiamo fare una globalizzazione fra amici, quindi una globalizzazione polemica contro altri e quindi bisogna fare lo scontro di civiltà, parliamoci chiaro, c'è ovviamente una castroneria, però nel momento in cui diventa senso comune o diventasse senso comune, soprattutto diventa il criterio di orientamento della politica internazionale, è un fatto, diventa vero, si creerà lo scontro di civiltà, lo voglio, forse ci riuscirà, hanno un unico problema che le opinioni pubbliche non sono mobilitate, cioè le opinioni pubbliche effettivamente non sono nemmeno mobilitate per la pace e contro la guerra in modo tradizionale, però certamente sono diffidei, non ci credono al racconto, il raccontino che viene fatto da due anni e più sull'Ucraina, sulla Russia, cioè sono diffidei, poi non vogliono questi problemi, non ci vogliono andare, non c'è, sono smobilitate, noi abbiamo società smobilitate, non mobilitate alla guerra, di solito quando si vuole fare la guerra questo è un problemino, è una piccola cosa positiva su cui possiamo contare, certo occorrerebbe una presa di coscienza in positivo e occorrerebbe anche questa refrattarietà, questa diffidenza passiva che nella società italiana però c'è, secondo me della metà o più della metà, trovasse una qualche rappresentazione politica nelle istituzioni e non c'è attualmente, è vero il parlamento non conta niente, non crediate a chi vi racconta che la riformetta abbastanza introponibile, che di cui ora si discute, sia a causa del problema della fine del parlamento, della centralità, il parlamento è mai finito da tempo, diciamoci delle verità, la centralità del parlamento non c'è più da tanto tempo per ragioni varie e per ricostruirla io sarei anche d'accordo a provare, la vedo in vasto programma diciamo, ma occorrono delle precondizioni poderose, bisogna rimettere il finanziamento pubblico ai partiti, fare la proporzionale, fare delle regole sulla vita interna dei partiti, sperare che da lì si ricrei uno spirito politico, una politica, perché non è che lo crea d'arte, lo crea d'ocche, ma si può provare a ricreare le condizioni, ricreare le condizioni significa tutto quello che è stato fatto negli ultimi 20-30 anni va rovesciato da tutti, è stato fatto da tutti, tutti quelli che hanno messo le mani alle istituzioni, alla Costituzione, frenati per ben due volte dal popolo bue, ma meno bue di loro e oggi non lo so come andrebbe, e il Parlamento con regolamenti parlamentari eccetera, facendo leggi, leggi, le cose varie, no? Cioè non è che non raccontiamoci che le istituzioni sono finite, le istituzioni rappresentative oggi per la signora Meloni, la signora Meloni porta all'estremo un problema che c'è da tanto tempo, è l'altra crisi, la nostra crisi interna, non possiamo nasconderci, perché io sono d'accordo sul fatto che abbiamo perso la guerra, diciamo abbiamo perso, sì, alla fine c'è stato riconosciuto lo status di combilligeranti, erano accadute delle cose, ma insomma fondamentalmente siamo stati trattati da sconfitti, avevamo fatto il fascismo, era anche comprensibile, però abbiamo avuto una classe dirigente, soprattutto politica, cioè dotata di una cultura politica, l'ultimo libro di Romanelli, storico liberale, sottolinea enormemente, dal suo punto di vista anche con elementi di valorizzazione, ma insomma anche di critica, il peso del cattolicesimo sociale e il lavorio che c'è stato, il fatto è la sinergia che si è determinata con la cultura socialista, comunista, eccetera, quella che ha portato a fare una finestra di opportunità che si è aperta, un caso raro nella storia italiana, a fare una cosa inedita, cioè una cosa veramente innovativa e veramente avanzata, dal punto di vista dell'emancipazione sociale, della centralità della dimensione sociale e democratica, e cioè la nostra Costituzione, articolo 1, 3 e connessi, basta prenderli, leggerli, prendete sul serio e si vede una cosa chiara, oggi la Costituzione nel suo nucleo essenziale è disattivata, al suo posto c'è una nuova Costituzione economica che è tutt'altro, è la sua negazione. Sabino Cassese l'ha scritto in maniera molto chiara in un manuale, ha avuto tante lezioni, nell'ultima è chiarissimo, nel 20, nel 21, si abbina con la sua solità, va giù, ma gli riconosco con piacere brutalità intellettuale, dice chiaramente, guardate che noi abbiamo fatto a un certo punto, una tecnostruttura ha deciso di cambiare la Costituzione economica del Paese, punto, e l'abbiamo fatto perché in Italia c'era lo stato parallelo delle partecipazioni statali, c'è lo stato parallelo, vi rendete conto, il dual state, cioè è una formula di Frankl quella del dual state, riferita al nazismo, lo stato parallelo, doppio stato, c'era un doppio stato in Italia, quello delle partecipazioni statali, perché esisteva il collettivismo, sono citazioni testuali, ci sono qui dei giovani che studiano queste cose, sbaglio? Sono testuali alla lettera, per questo apprezzo la franchezza di Sabino Cassese, però se è così vengono delle domande, ma l'avete chiesto il parere del popolo sovrano, l'avete detto chiaramente, avete spiegato le conseguenze che implicava quello che peraltro Guido Carli racconta nel suo libro di memoria, cioè dice ma qui si stanno rendendo conto di che stanno firmando, si stanno rendendo conto di che stanno cambiando le basi su cui poggia la Repubblica? Forse era necessario, ma almeno diciamocelo, apriamo un dibattito pubblico franco e soprattutto non facciamo finta di fare difensione vestali della Costituzione, cambiamo il sistema politico istituzionale, invece si è avviata una transizione infinita che ci ha portato in questa morta gora di nulla di politica, la politica, ma perché di poi non c'è politica? Politica significa confliggere sulla base di interessi, idee e poi decidere, a produrre un esito dicemonico anche se si vuole, no? Tutto questo è possibile in Italia? No, si può solo implementare, come si dice con un termine orrendo, l'agenda già precostituita, infatti abbiamo un governo che tutti si stracciano le vesti ma in realtà realizza la vicenda Draghi sostanzialmente con qualche aggiustamento e correzione identitaria, pseudo identitaria poi, insomma caricaturale, e dall'altra parte fanno tutte le caricature dell'identità opposta. Io mi rifiuto di partecipare a questa bolletta, a questa caricatura, a questa non politica, questa è l'antipolitica dall'alto e dal basso ma proprio nel senso della negazione del concetto di politica, è una pantomima che serve a raccattare consenso, ma appunto per garantire le decisioni di altri o per realizzare decisioni di altri. Quando l'agenda non è disponibile del tutto è chiaro che democrazia non c'è e non c'è nemmeno politica, però questo da qualche parte sarà arrivato, siccome io mi ricordo che il nostro paese ha avuto tragedie, che significa evidentemente a un certo punto questo paese sconfitto, però in virtù di una serie di ragioni e di quella classe politica diversa e nuova, ha coltivato una qualche relativa autonomia politica da mattè in poi nell'energia, nel mediterraneo, ci sono dei bellissimi studi sulla politica estera di Moro nei primi anni settanta rispetto al Medio Oriente, rispetto alla questione palestinese, è lui che promuove la dichiarazione, porta agli altri governi europei alla famosa dichiarazione sui due popoli e due stati e oggi non è manco più praticabile, ma che comunque allora era una cosa rilevante, anche per ragioni di interesse nazionale, perché c'era pure la questione energetica per l'italia ovviamente, con tutti i limiti, con tutte le prudenze, però evidentemente poi tanto prudente non deve essere stato, però si faceva, e non è che lo faceva solo lui, perché se uno va a vedere e se la rivede bene quella storia, ce ne erano diversi, Fanfani si arrabbia come che perché a un certo punto arriva da un commissario europeo, anzi prima ne era manco un commissario, si chiamavano in un altro modo, negli anni sessanta, una lettera irricevibile, è furente, anzi una lettera molto più alleggerita rispetto a quella Draghi-Trisset, che quando è arrivata fra un po' la esponevamo nelle piazze, ed era un atto eversivo, come dire che esiste il pilota automatico che è tecnicamente eversivo dell'ordine democratico costituzionale, o no, da poi, il diritto è unione di normatività e effettività, se proprio la normatività non c'è più, allora poi non fateci le pretiche, allora dite ok aderiamo al fatto qualsiasi esso sia, anche a costo di distruggere il dover essere, il modello, il progetto, la costituzione è una garanzia di diritti che ci sono, ma molto di più un progetto costituzionale, politico costituzionale, un progetto antropologico e quando si è fatta la scuola unica, ma posso fare un elenco lungo, di cose che hanno portato l'invisibile della storia alla visibilità, c'era il modello diciamo socialdemocratico che ne si hanno, c'era il mondo diviso in due, c'era Bretto Woods, c'era il fatto che, soprattutto c'era il fatto che i capitali non potevano andare dove gli pare a loro, mille precondizioni, ma c'era anche un classe politica che nel suo, una parte almeno, che nel suo complesso, maggioranza e opposizione, portava avanti un disegno, che era un disegno emancipativo, dico la parolaccia, emancipativo, la scuola unica che ha voluto Aldo Moro, con i socialisti e i vuini, persino contro qualche intellettuale comunista, che diceva, ma forse è troppo presto, stiamo attenti, comunista e non solo, forse è prematuro, e invece dice, se no bisogna farla, perché è l'unico modo per prendersi in serio quel progetto e per cambiarla realmente una società gerarchica. Ricordo che in altri paesi europei, tutt'oggi, ai ragazzini molto molto giovani, viene chiesto ricerca, cioè vengono estradati sulla brasa della famiglia, del luogo di nascita, e poi i tedeschi, per esempio, vent'anni fa, venticicinque anni fa, hanno detto, oddio mamma mia, i nostri test dimostrano che siamo una scuola un po' indietro, che riproduce disuguaglianze, ah, l'avete scoperto, per non parlare di altri, quindi questo paese nel suo casino ha anche avuto momenti in cui ha realizzato cose grandi, grandi, che hanno rotto l'idea che ci fosse l'avviamento professionale a dieci anni, oppure l'altra strada, una cosa enorme, enorme, che ha cambiato la società, infatti negli anni 70 l'ascensore sociale è forte riduzione delle disuguaglianze e se si va a vedere bene anche i dati economici positivi che che se ne dicano, si dica, perché se si va a vedere il terrorismo con questo e con quell'altro in realtà era oro, l'italia comunque cresceva e non aveva manco questo verano debito pubblico che viene comunque una cosa complessa. Allora la domanda è com'è che a un certo punto una classe politica relativamente autonoma, che credeva nell'autonomia della politica fino a Craxi e anche nella politica estera, per quello che era possibile cercava di seguire una propria strada, è crollata? Allora è crollata perché evidentemente è arrivata consunta. Io vi ho un'idea e cioè che se uno fa i sacrifici umani e pretende ristabilizzare un ordine, cioè parlo del 9 maggio del 78, su questo è chiaro che quella ferita butterà sangue, che è una menzogna poi, cioè un grande autoinganno, un inganno al paese, quella ferita butterà sangue per sempre e quindi corroderà l'anima di quel paese. Dopo 15 anni, dopo 15 anni di cui si è tirato a campare per non tirare le cuoia, è chiaro che quel sistema politico ingiustamente, perché è un problema il fatto che sia crollato così, senza sostituti oltretutto, è venuto meno, è arrivato sfiancato, senza energia, però le cause sono lontani, sono alla fine degli anni 70. Intanto bisogna capire bene le cause, l'origine e poi capire bene che quella è una crisi non solo tecnica, ma è una crisi culturale, antropologica, spirituale. A quella crisi si è risposto il 92-93 e l'hanno fatto in gran parte gli ex amici di Moro, quelli che avevano scelto, che non sono stati capaci di dire no al sacrificio. Questa è la mia interpretazione, però è la constatazione di fatti, di fatti, di persone e del ruolo che hanno avuto. Questo è comunque un aspetto interessantissimo, ma se volete lo possiamo anche mettere fra parentesi. È un fatto che i post comunisti e i post democristiani di sinistra hanno ritenuto che per il paese non ci fosse più alcuna possibilità, se non quella di affidarsi totalmente a un disciplinatore esterno. Bene, dopo 30 anni e più lo possiamo dire che quel progetto è fallito miseramente, è davanti ai nostri occhi. È un fallimento politico, economico, culturale e morale. Si poteva prevedere perché non può pensare di affidarsi totalmente a un disciplinatore esterno significa non avere un credere più per niente in se stessi e consegnarsi agli altri perché poi il disciplinatore, il garante esterno farà interessi suoi, soprattutto. Ma la cosa ancora più grave disabituarsi totalmente a esistere come comunità politica. Infatti oggi noi non esistiamo, siamo polverizzati purtroppo. Nel momento che ho parlato più di perché siamo arrivati qui, dopo di che si può provare a chiedersi se da questa polverizzazione, da questo deserto, possa nascere qualcosa. Grazie. Grazie. Grazie.